Il capogruppo della DC e Lars Carmelo Pace nelle settimane scorse, anche in un'intervista concessa al nostro telegiornale, aveva dato per certo lo slittamento delle nomine dei manager dell'ASP in scadenza il 31 ottobre. La reazione a quella dichiarazione del presidente della regione Schifani fu piccata, vedendolo precipitarsi a dichiarare che si sarebbe fatto in tempo. In realtà i fatti dicono che non è stato così e che Pace aveva ragione. È di fatti arrivata nelle scorse ore la proroga ufficiale dei direttori generali e come nel caso di egrigento dei commissari straordinari di manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane fino al 31 gennaio 2024. La decisione è scaturita da una proposta dell'assessora regionale alla salute Giovanna Volo, obiettivo garantire la continuità gestionale e funzionale degli enti sino al completamento della procedura di selezione di nuovi direttori sanitari e amministrativi. La proroga potrà avere una durata inferiore nel caso in cui le procedure di nomina vengano completate prima della scadenza. La proposta è stata sottoposta all'aggiunta anche a seguito di un parere dell'Avvocatura distrettuale di Palermo in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dell'assessorato in merito alla possibilità di incarichi da direttore a soggetti in quiescenza, dice la regione siciliana. Quindi, per ricordare quanto il sindaco di Sciacca Fabio Termini aveva detto recentemente, il manager Mario Zappia non appartiene ancora al passato, non escludendo naturalmente che l'ex sindaco di Bronte possa anche succedere a se stesso, non appena a Palermo le forze che governano la regione troveranno l'accordo sui nomi. A Schifani probabilmente che non si sia riuscito a nominare nuovi direttori generali nei tempi previsti non va del tutto giù ed è probabilmente questo il motivo per cui sta convocando riunioni su riunioni, proprio sul tema delle nomine. Ieri pomeriggio è preseduto un vertice con Giovanna Volo, il dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, il capo di gabinetto dell'assessore Giuseppe Sgroi, proprio per fare il punto in vista delle prossime designazioni dei manager. Il tema è caldo, soprattutto sul piano politico. Ricordiamo che, peraltro, lo stesso segretario nazionale dell'ADC, Totò Kufaro, ha detto che i manager devono essere estratti a sorte. Ci sono gli elenchi da cui attingere, ci sono i curricula, questione politicamente rilevante, tanto è vero che il capogruppo del PD Michele Catanzaro accusa Schifani di considerare il problema della sanità non per il diritto alla salute dei cittadini ma per la spartizione delle poltrone. La proroga dei commissari decise in giunta, dice il parlamentare Sacenze, non farà altro che mettere in stand-by tutte le criticità del sistema sanitario regionale fino a quando la maggioranza non riuscirà a trovare un accordo sulla spartizione delle poltrone di manager, e quindi verosimilmente fino alle prossime elezioni europee. Il rischio, secondo Catanzaro, è che una proroga trascinerà i commissariamenti fino alla finestra preelettorale, quella durante la quale, per legge, il governo regionale non potrà fare nomine. Tutto questo conclude il deputato, mentre i cittadini fanno i conti con le liste d'attese infinite e con la carenza dei medici nel pronto soccorso. Zappi è dunque legittimato a continuare a lavorare, almeno fino al 31 gennaio del 2024, anche se, a sentire Michele Catanzaro, potrebbero esserci ulteriori proroghe. Prosegue intanto l'impegno di sindaci, comitato civico per la sanità e comitato di quartiere per la manifestazione di protesta all'ospedale di Sciacca, quella in programma per il prossimo 10 novembre, a cui hanno aderito 19 primi cittadini dei comuni del comprensorio. La buona notizia delle ultime ore è che l'unica sala disponibile dell'emodinamica del Giovanni Paolo II, dopo il guasto dei giorni scorsi, è tornata regolarmente a funzionare.